Buon appetito! 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 però in questo anno ho dicevole, voglio cambiare e molta gente mi encuentra meglio, come più prolija, meno pintata no te pare che che tengo meno pintura? meno di tutto no, però in la televisione no, venite per la pechuga in la televisione stai tranquillita e voi ti aguantate? un luca signorado no, però mi piace, a me gusta cambiare sempre usate una ropa però medio al aire te gusta però mi piace però hai che essere più signora i anni passano, uno va crescendo va madurando, devi essere più seri oggi così me puse media loca perché venia a vedere la voce no, però è stato bárbaro tutto è feta, è natural tu perfume come va? che senti di avere un perfume? no, no, me piace la idea penso che in tutti i paesi ci sono grandi personalità che hanno il perfume e mi piace che è buono che hanno pensato in me e in tu casa tenes il perfume in tutti i paesi lo tengo in tutti i paesi va al baio va al baio va al baio la cocina no, la cocina no però lo pongo si, è ricco lo provaste? no me trajé no importa cosa te pasa Susana Jiménez quando estas sempre in medio de esas tormentas de la popularidad? como lo vivis? podes dormir esos dias? si, me acostumbré me acostumbré al principio no podia dormir a mi no me gusta mucho que la gente hable de mi todo el tiempo sobretodo no me gusta que hablen sin saber viste? que uno yo no te creo que no te gusta que me hablen bien si ah, que hablen bien si pero no me gusta cuando hablan mal o cuando hablan de cosas sin saber o cuando te acusan de cosas o cuando estas pasando momentos bravos si, si hasta mañana y te vas a dormir y trato de no escuchar de no leer de no ver tele... cuando pasan esas tormentas trato de no ver nada para no enterarme jaja porque todo pasa jito la susana viciemen mirá que sistema que antes de que ponga ya se hace que buenissima ahora yo tomo el play dale señor director a ver el play vos lo ves alia ah yo lo veo alla a ver a ver ay estas se ve atraal tuyo ay... esto se ve ah, no La film è stata una film. Quelle film? Che aveva fatto con Zuccovich. E' questa è la film. E' la vendita? Si, allora... E' la pubblicità! E' la Mari. E' la Mari. E' la Mari. E' la Mari. Dramatissima. La Mari era la re dramática. La Mari era la re dramática. Ah, buono, grazie. E' la buona. E' con Arturo Fuì! E' con Gran Tempà. E' con Gran Tempà! E' la buona tanto sa me la di. E' con Angeli. E' con ese chico? No, no. E' con ese vestidito... Me acuerdo, ese vestidito hacía yo. Con ese vestidito. En grande. E' con esa parte. E' con esa team. Espefiero que volvamos a verlo. Ya tú, así era como buena. Cuando no tengamos, no te cuidamos. E' también, él también. E' con esa sonida, anche... Hablábamos así? E' Arturito. Questo è il show, è vero? No, grazie a questo... e tutti gli altri. E Arturo, dove sape questa film? Non mi la vi. Questo è tutto programmato da Clarita Zappettini, che è una genia. È una genia, Clarita Zappettini. Eccoci a te apurare un filtro. Mirà! Oh... Oh! Ero, non è anche oggi, no? Questo è di te produce? Cosa si è il di usato? Il che il perdo tracciato è chiamato gligligliglugli... Lulliglugli... No, no, no lulliglugliveniati. Cosa chiamava? Ricconi, 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 Ricconi. Ricconi, grazielti. Cosa, il vecchio è il ragazzo? Ah! Il sangrao e all'allava. Certo. A loro si siano, la stagida è un pollo... In tutti i corti, si siano grabando... Stiamo facendo tutto, stiamo facendo tutto. Ora si è buono! E' vero che è bello! Sì, è bello che sia la nostra che non mi piace! Mi piace, mi piace! Mi piace, mi piace! Noi non ci siamo più un giorno con voi ma abbiamo bisogno di rinunciare e ancora devo fare premio, cose... Mi hai bisogno di firmare, sai come è? Per la mia amore, gordo Grazie a tutti. Grazie a tutti.